Paglio Felline, con i primi fino all'ultimo cosa ti è mancato? Ma sai, dire cosa mi è mancato è un po' difficile perché questa volata in discesa è sempre un po' strana normalmente chi parte presto viene ripreso, io oggi non ce l'ho fatta non partire perché l'occasione mi ha fatto partire abbastanza presto e gli ultimi 30 metri mi sono piantato, però ho corso bene, ho preso la sedita davanti ho avuto un buon supporto anche da parte dei miei compagni della nazionale che sono tutti giovani sono tutti adoperati alla mia causa e bene così si guarda avanti perché a te non si è arrivata una vittoria che ci tenevo molto Durante la gara, durante la giornata come ti sei sentito? Ma è un periodo che sto bene, anche oggi più o meno sono sempre stato bene, forse il momento peggiore è stato il testico che ho avuto una sensazione non ottimale ma poi il finale è sempre bene In bocca al lupo, grazie, ciao